Me la vuoi dare? Dammi la tre, facciamo così. Ti ricordi come diceva Funari? Dammi la tre. Ecco qua, il tre come gol che il Napoli ha fatto a questa Roma. Da oggi io spero che per il Napoli inizi un nuovo campionato. La Coppa Italia ne parleremo il 3 o il 7 maggio o come dice Vincenzo il 15 di agosto. Noi saremo lì, ci saremo per tutta quella giornata, ma adesso c'è da conquistare il secondo posto, c'è da far bene in Europa League, c'è da continuare a far capire a questa intera nazione spaccata in due per tutta una serie di cose, ma non voglio farvi la morale a mezzanotte e un quarto, che questa città che si chiama Napoli, che cinque secoli fa, prima di questa spocchiosa città che adesso è la nostra capitale, purtroppo, lo dico purtroppo, nasceva e insegnava cultura e saggezza a tutta la Magna Grecia, a tutto il sud dell'Italia. Poi nel 1860 qualcuno con le giubbe rosse venne giù da noi, rubò, saccheggiò i forzieri pieni di denaro, del regno delle due Sicilie e uni questa nazione. Oggi noi facciamo parte di questa nazione, ma io oggi ancora di più mi sento napoletano, mi sento napoletano perché nel nostro cuore c'è la lealtà di un popolo che soffre per tutta una serie di problemi, ma che con il calcio riesce a vincere. Grazie ragazzi, grazie a voi, buonanotte a tutti, Club Napoli All News torna domani. Carmine Dal Kent, allora ci abbiamo Carmine Dal Kent, se arriva Carmine Dal Kent, allora io mi tolgo la travatta per Carmine per fargli capire che la puntata è finita, la puntata è finita, ma per Carmine noi facciamo l'ultima telefonata, siamo ancora in diretta Carmine, te la faccio per te, vai Carmine, vai. Buonasera, mi sentite? Ti sentiamo, guarda per te, per me la puntata è finita, guarda ho tolto anche la gravatta, ma poi che hai chiamato tu, che chiami Dal Kent, la parola è solo per te. Francesco è stata una serata spettacolare, e la BBC, a dirti la verità, la BBC dell'Inghilterra ha bisogno di persone come te. Vengo, fammi venire, arrivo, arrivo, no però non lascio Tele Club Italia, mai. Tu saresti un mostro, e dopo, adesso prima che attacco, ti voglio dire una cosa, io ho preso un'infezione col Club Napoli, buonanotte e arrivederci. Sei grande Carmine, grazie, 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 buonanotte ragazzi, a domani, a domani. Che puntata. 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 Grazie per la visione!